Avvocato Repici, buongiorno signor Tranchina, lei già ha parlato di Cesare Lupo, suo cognato, vorrei chiederle, lei quando lo conobbe? Allora io a Cesare Lupo premetto che lo conosco anche da quando ero ragazzino, perché? Perché abitavamo di fronte, come ho spiegato prima, Sia i miei genitori che la famiglia di Lupo vivono a Borgulivia, nello stesso baio, a distanza di 30-40 metri i palazzi sono di fronte, quindi io anche da ragazzino, a Cesare Lupo lo conosco, però lo conosco bene, lo comincio a frequentare nel momento in cui mi faccio fidanzato ufficialmente, questo avviene a gennaio del 1990, che mi sono fatto fidanzato ufficialmente. Ora, anche prima del momento in cui appunto lei si fa fidanzato, sapeva che attività lavorativa svolgesse Cesare Lupo? Prima di io farmi fidanzato ufficialmente, io quello che sapevo è che lui lavorava alla Sicetil, infatti veniva pure la casa che aveva delle macchine proprio con il logo della Sicetil che erano scritte, ricordo che erano delle 127 gialle con la scritta blu, mi ricordo perché era un colore strano. E di che cosa si occupava la Sicetil? La Sicetil facevano impianti di palificazione, diciamo era una ditta subappaltatrice della SIP per intenderci. Cioè linee telefoniche per intenderci? Esattamente. E riesce a ricordare più o meno fino a quando svolse questa attività lavorativa? Allora lui la svolse fino al momento in cui costituisce la immobiliare building e quindi comincia la costruzione di questo fabbricato con ufficio attivo in via Rudinì. Quindi siamo diciamo tra la fine del 90, l'inizio del 91, adesso poi non lo so il periodo precedente, però nel momento in cui si pone in essere il cantiere di via Rudinì, Cesare diventa l'amministratore unico. Abbandona quel lavoro. Eh sì. Ho capito. Le vorrei chiedere questo se anche per la sua conoscenza successiva rispetto a quell'epoca ha mai saputo se Cesare Lupo ha sfruttato diciamo quella sua attività lavorativa per compiere attività nell'interesse di Cosa Nostra? Questo non mi risulta, avvocato. Ha mai saputo di intercettazioni abusive utilizzate e effettuate tramite l'utilizzo di cabine, centraline telefoniche? No. Seppe quali fossero stati i canali dell'assunzione di suo cognato alla Sicetil? Io non ne sono sicuro, però credo che il canale sia stato tramite il papà di Cesare Lupo, quindi mio suocero, come ai tempi era sindacalista e quindi credo che forse magari sia un rapporto di questo genere. Però, avvocato, non posso darle una certezza. No, per carità. Questo è quello che io mi sembra di ricordare. Va bene. Senta, a proposito di quel che le è stato richiesto anche poco fa della domanda che lei fece a Giuseppe Graviano vedendo le immagini del dottor Falcone in tv, le dice che era l'inizio del 92 e l'ha messo in relazione con le armi di cui aveva parlato prima. In relazione all'avvistamento da parte sua di quel cospicuo numero di armi, vorrei chiederle questo, insieme a quelle armi c'era anche materiale esplosivo o erano solo armi? Non ho notato materiale esplosivo, ho notato delle armi, fucili, pistole, giubbotti antiproiettili, queste cose ho notato. Sì, ora poco fa lei ha detto io vedendo quello che ho visto mi sono fatto un'idea, ha detto anche capisco dove dovevano andare, ho capito bene? Sì, perché ho sentito i commenti, nessuno di loro mi ha detto dove stavano andando, ho sentito i commenti quindi mi sono fatto la mia idea, idea che poi diciamo quando io vedo l'immagine del dottore Falcone gli dico a Giuseppe lo guardo in faccia e ci dicono ma come si avvicinano di questo? E lui è come se mi ha dato una risposta in quel momento. Ecco, e dove dovevano andare? Come luogo? Io li sentivo parlare mentre caricavano che si trattava di un'azione pericolosa che dovevano andare a Roma. Ecco, questo poi io ripeto non partecipavo alla discussione perché io ero un po' defilato, ma defilato per quanto potevo essere. Ero vicino, diciamo tra virgolette. Io sinceramente mi meravigliai quella volta perché fu la prima volta in assoluto che Giuseppe mi portò così a spingermi in avanti in un appuntamento perché infatti quando vedi tutte quelle armi cioè non le avevo mai viste in vita mia. Era un vero e proprio arsenale. Ebbe poi notizia in periodo successivo di trasferimenti di quelle armi, di quelle stesse armi? No, no, non ne ho saputo più niente, non ho visto rientrare macchine, niente. Possibile che mi sia distratto io, le vorrei chiedere questo, lei fino a quando si è occupato anche solo parzialmente degli spostamenti di Giuseppe Graviano? Sì, è probabile che mi sia distratto io. Sì, mi sono occupato degli spostamenti di Giuseppe Graviano, come ho detto precedentemente, o fino alla fine, diciamo gli ultimi giorni del 1993, del mese di dicembre, perché l'ultima volta che lo vedi fu proprio a Milano. Ed era o la fine del 93 o i primissimi giorni del gennaio del 1994 e poi non lo vedi più. Sì, ora le vorrei chiedere questo, nell'estate del 93 lei può indicare alla Corte se si è trovato ad accompagnare Giuseppe Graviano solo in territorio siciliano o anche in altre regioni d'Italia? Ma nell'estate del 93, allora, intanto faccio una piccola premessa che io nel primo giugno del 1993 mi sono sposato e sono mancato 15 giorni per via del viaggio di nozze. Ed ecco, per esempio, proprio su questa data mi torna in mente che, tornando dal viaggio di nozze, il 15 di giugno, poi diciamo la settimana successiva, il 15 giugno, mi recai a Pordenone, perché mio socio era ricoverato lì, che stava facendo la radioterapia, che aveva un problema alla gola. A Pordenone trovai pure mio cognato Lupo Cesare con la moglie e il figlio e mi dissero, dicevo, appena te ne scende, poi ci viene a trovare a Forte dei Marmi. I Graviano in quel periodo avevano una villa affittata a Forte dei Marmi, quindi ci siamo visti a Forte dei Marmi. Quindi, i viaggiari viaggiavano sempre, avvocato. Ecco, a Forte dei Marmi, quindi, lei visitò il sito in cui loro si trovavano? Sì. E lei sa come avevano trovato questo alloggio? No, no, non me ne hanno parlato di chi avesse curato l'affitto, chi gliel'aveva fatto trovare. Gli unici commenti che ho sentito fare è che costava tantissimo l'affitto, costava tanti soldi. Ma che tipo di immobile era? Era una villa abbastanza grande, io non ho un ricordo ben chiaro, però mi ricordo che si entrava. Sulla destra c'era modo di accedere a dei piani che stavano, diciamo, a livello inferiore rispetto al livello stradale, nel senso che si scendeva giù. Poi invece si tirava avanti, alle spalle c'era un giardino tutto ben curato, poi c'era una veranda grande. Era una bella villa, avvocato, bella. Io non ho ricordi chiari, diciamo, nitidi. Ultimo chiarimento, quindi, quanto al dato temporale. Lei ha fatto riferimento al suo viaggio di nozze e poi a quella presenza a Pordenone, e quindi di ritorno. Più o meno, quindi, siamo entro la fine di giugno 1993? E anche luglio, perché quando io poi vado a trovarlo a Forte dei Marmi passo dei giorni là con lui. Quindi anche inizio luglio? Sì, qualche giorno di inizio luglio sicuramente, avvocato. Sì. Poi durante tutta l'estate ce ne sono stati altri movimenti, spostamenti anche nel continente, in Sicilia, però, dico, non è che li so datare tutti, mese per mese. Oppure dire ad agosto era qui, a settembre era qui. I viaggi sono stati tantissimi, ne ho parlato tantissimo recentemente anche in altri procedimenti. Sì, ecco, anche se non li può naturalmente datare uno per uno e ci mancherebbe, intanto se parliamo di quelli fuori dalla Sicilia, se può riferire almeno approssimativamente le zone, le località, oltre a questa che ha detto di Forte dei Marmi. Presidente, io non voglio comprimere l'esame di nessuno, però sono già state esplorate in sé di esame del Pubblico Ministero, cioè le località dove lui ha... Sì, in effetti se ne è parlato delle località, se c'è qualche cosa più specifica magari... Sì, a me interessa sapere non solo quelle che il signor Tranchina può aver visto di persona, ma anche le notizie che può aver avuto, seppure senza presenziare in quei luoghi. Eh sì, allora la notizia di altri soggiorni, oltre a quelli che lei ha già menzionato, anche in luoghi dove lei non è stato? No, no, perché il Graviano se si recava in un posto che io non ci dovevo andare, ovviamente non me ne parlava, perché non aveva senso riferirmi a Isai, me ne sto andando, faccio un'ipotesi, dico una città a caso, dico me ne vado a Novara per dire, non ha senso che me lo veniva a dire a me, signor Presidente, io laddove lo accompagnavo e allora posso riferire, di altri posti lui non è... Può riferire alla Corte se suo cognato Cesare Lupo si è alle volte occupato di spostamenti al nord di Giuseppe Graviano? Sì, mio cognato Lupo Cesare è partito tantissime volte con Giuseppe Graviano, specialmente nel primo anno quando diciamo io mi sono fatto fidanzato ufficialmente, anche prima di io conoscere pure Giuseppe Graviano, personalmente lui partiva spesso con la moglie Giuseppe Graviano, con la sua fidanzata, ma questo anche dopo, pure nel 92, nel 93, Cesare pure spesso partiva con... cioè li raggiungeva, passavano dei giorni insieme. Ecco, lei poco fa ha fatto riferimento alla provincia di Novara, era a titolo esemplificativo, cioè tanto per dire un luogo, oppure era perché lei sa che i Graviano sono... o qualcuno dei Graviano è stato in provincia di Novara? Ha detto che era un esempio di... No, Presidente, io ho altri raguagli e preferirei che non si facessero commenti fuori campo da parte di altri difensori alle domande prima della risposta. No, però noi avevamo pure inteso che... E' un'opposizione formale, perché ce l'ha detto a modi esempli. Senza riferimento a dati reali, però può anche darsi che invece ci sia una diversa interpretazione possibile, quindi se può chiarire questo punto magari. Io ho detto Novara tanto per dire il nome di una città, però giusto Novara e Omenia, quella zona, i Graviano avevano impiantato una gelateria, dico per esempio. Benissimo, può riferire questa gelateria di Omenia, provincia di Novara, da chi era materialmente gestita? C'è opposizione, Presidente, ha già risposto ieri su domanda del Pubblico Ministero. Comunque, se lo vuoi ribadire un attimo per... Salvatore Baiardo. Sì, comunque in effetti se ne hai parlato di questa persona. Va bene, ora vorrei chiederle questo. Lei ha... Nel quartiere Brancaccio ha mai conosciuto una impresa che operava lì, denominata Sud Gessi? Il nome non me lo ricordo. Cioè non le dice niente, questo è il senso? In questo momento non... Sud Gessi non... Un commercialista dal cognome Lima? Neanche. Senta, quando... Rispetto... Lei ha detto già dal dicembre 1993 i fratelli Graviano erano passati da Milano e poi vennero arrestati, come sappiamo, il 27 gennaio 1994. In epoca precedente, cioè nella prima parte del 93 e nel 92, lei ha conoscenza di presenze dei fratelli Graviano a Milano? Cioè io non ripeto le date, non le posso, però lui a Milano di certo non c'è stato solo quella volta quando l'hanno arrestato, precedentemente c'era stato sempre e quando io dico precedentemente avvocato ovviamente mi riferisco agli anni 92-93 perché fondamentalmente sono stati questi due anni che io ho conosciuto il Graviano, che l'ho conosciuto a maggio del 91, a dicembre del 94 l'hanno arrestato, tutto qui, quindi i viaggi non è che sono stati fatti in un anno solo, quindi... Senta, lei ebbe notizia dell'arresto, degli arresti delle persone inizialmente indiziate per la strage di Via D'Amelio, le faccio un nome tra i tanti, di Vincenzo Scarantino? Eh, ne parlavano tutte le televisioni. Sì. A parte le televisioni, sebbe altro tipo di notizie. Presidente, in realtà io, la mia domanda era proprio mirata a sapere se lui intanto ne ebbe notizia in diretta anche dagli organi di informazione, per sapere se è seguito altro all'apprensione di questa notizia. Sì, sì, sì. Se ci furono ulteriori indicazioni, commenti... Sì, mi ricordo che, ripeto, subito l'ho appresi dalle notizie di stampa che Scarantino stava parlando, cose, ma già quando si sentiva parlare di Scarantino c'erano tipo dei musi storti, come a dire, ma una volta tant'è che io mentre ero con Giuseppe Graviano, che proprio si stavano dando le immagini in televisione delle dichiarazioni di Scarantino, ci guardammo in faccia, Giuseppe a te come lezze, a te come ma chi è questo di qua? Però, fanno parlare, mi ricordo questo commento... Questo fu il commento di Giuseppe Graviano, fanno parlare? Sì, a te come dice ma chi è questo di qua? La domanda la fece lei? No, non ci fu nessuna domanda, ci fu uno sguardo tra di noi e lui... Ah, ho capito. Cioè, con lo sguardo lei interrogò Giuseppe Graviano al riguardo di Scarantino, era questo il senso? Sì, perché già nel mandamento di Brancaccio tutti a te dicevano ma chi è questo, ma chi è questo, chi è questo, c'era questa voce che girava. Ecco, e lei aveva mai sentito parlare in ambienti malavitosi a Brancaccio, a Palermo, di questo Scarantino? No, mai. A proposito dei telecomandi, lei poco fa ha riferito di indicazioni messe per iscritto da Giuseppe Graviano in un foglio A4, se io non ho capito... Non sono indicazioni, era un foglio illustrativo, diciamo, proprio del telecomando. Ah, cioè non era stato scritto da Giuseppe Graviano? Già un foglio stampato con dei dati. Ah, e la cosa che le vorrei chiedere io è questa, per quel che lei sa, Giuseppe Graviano aveva sua personale cognizione di qualche tipo, tecnica, su quegli apparecchi? Questo non lo so, avvocato, io quello che le posso dire è che lui mi diede il foglio illustrativo, dice Fabio, qua ci sono i dati, il telecomando si chiama così, dice mi devi comprare questo. Poi successivamente, quando acquista il secondo, si sbottono un po' come mi disse, sono troppo belli i telecomandi, se non le trovano, nel senso finché non le trova la polizia, quindi lui di troppo belli magari si intendeva il funzionamento. questo, posso... Questa è la sua deduzione? Sì. E se le faccio... Però dico, una deduzione motivata, perché nel momento in cui... No, no, non era per sminuire il senso, anzi dica, spieghi perché era motivata. Nel momento in cui lui dice sono troppo belli, finché non le trovano, dico mi sembra poco, mi sembra più di una deduzione la mia. Lei non ha contezza della provenienza di quel foglio che le venne dato da Graviano? No, no, lo diede a lui. Presidente, io ho terminato, grazie. Grazie. Grazie.